C'era un nostro amico dell'Olimpia Boxing Sì, sì, era qua Ma ha detto Davide che era qua Non lo vedo Non l'ho visto ancora nessuno E' la PnA con i pantaloni di Iana Gialli Poi è anche passata ma... È ovviamente... infatti è anche contro l'uomo in fila me l'entrante questa volta che è mortito contro di me no ma vabbè la conosco che è una l'uomo in fila Vai Fabio! Vai Fabio, vai Fabio, vai Fabio, vai Fabio! Vai Fabio, vai Fabio, vai Fabio! Vai Fabio, vai Fabio! Vai Fabio, vai Fabio, vai Fabio! Vai Fabio, vai Fabio, vai Fabio! Vai Fabio, vai Fabio! Vai Fabio, vai Fabio, vai Fabio! Vai Fabio, vai Fabio, vai Fabio! Vai Fabio, vai Fabio! Vai Fabio, 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 vai Fabio, vai Fabio, vai Fabio! Vai Fabio, vai Fabio, vai Fabio, vai Fabio! Ma non penso che sia lega Non tenia lega solo E quando vai giù non ti vede a sorgire E' lega qua E' lega qua E' lega53 E' lega a mano si respira più a mano si respira più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.